Anticipazioni, la promessa, Yana sul punto di trovare suo fratello. Nelle prossime puntate della promessa in onda su canale 5, Yana continuerà a cercare suo fratello Marcos. Ricordiamolo, è stato rapito ben 15 anni addietro e nei prossimi episodi sembrerà essere sul punto di averlo ritrovato. La giovane infatti avrà modo di sentir parlare di un certo curro, un ragazzo di circa 16 anni che le crederà possa essere proprio suo fratello. Tutto inizia quando Catalina, lui Yana sarà molto addolorata per la perdita del fratello gemello Thomas e quindi si soffermerà a guardare alcune vecchie foto nelle quali ci sarà anche Dolores, la madre di Yana, uccisa nel corso del rappimento con Marcos, insieme però a una donna su una sedia a rotelle. A quel punto Yana, volendo fare di tutto per scoprire cosa sia accaduto a suo fratello, chiederà immediatamente alla Marchesina chi sia la donna nella foto insieme a sua madre. Catalina gli dirà che quella donna si chiama Eugenia Exoquedo ed è la sorella malata di Cruz e le svelerà anche che la donna, a dispetto della sua malattia, ha messo al mondo un bambino di nome Francisco, però tutti chiamano Curro, di circa 16 anni. Yana, dopo essere quindi venuta a conoscenza di ciò, prenderà seriamente in considerazione che il ragazzo possa essere proprio il fratello rapito. E qui arriva il bello, perché a tal proposito questo ragazzo arriverà alla promessa insieme a suo nonno Juan per trascorrere un weekend nella tenuta. La trasfetta però del ragazzo durerà molto poco, in quanto subito dopo aver fatto il bagno nel fiume con suo cugino Manuel dovrà andare immediatamente via. Il barone, ossia suo nonno, andrà subito via portandosi con sé anche il giovane nipote. E per via di questa fuga, Yana non farà in tempo a conoscere il giovane Curro, ma ci sarà un particolare elemento che non dobbiamo sottovalutare. Infatti, questo ragazzo, prima di gettarsi nel fiume con Manuel, si toglierà i vestiti e resterà a petto nudo. E grazie proprio a questo avremo modo di notare che Curro ha una voglia piuttosto grande sul lato sinistro del petto. Questa voglia, infatti, potrebbe permettere a Yana di scoprire, senza dubbio, che il nipote del barone non è che suo fratello.